E' stata riavviata la trattativa sulla piattaforma sindacale per i lavoratori dell'indotto Eni di Vigiano. Nell'incontro si è discusso di stabilizzazione dei contratti a termine e di omogenizzazione dei sistemi di sorveglianza sanitaria con i lavoratori dell'Eni. Il prossimo incontro è stato fissato per il 9 giugno in Confindustria con all'ordine del giorno l'altro punto contenuto nella piattaforma, cioè il salario al fine dell'equiparazione con i trattamenti dei lavoratori dell'Eni. CGL e Cisleville considerano importante l'avanzamento registrato sui due punti già discussi e ritengono fondamentale per un complessivo esito positivo dell'avvertenza registrare risposte puntuali sull'equiparazione dei trattamenti salariali con l'Eni alla luce degli impegni assunti da tutti i soggetti firmatari del contratto di sito a partire da l'Eni nell'incontro del 30 aprile in Regione Basilicata.